Quali sono le qualità essenziali, le cose essenziali per lanciare una startup di successo? Sono Raffaele Mauro, Managing Director di Endeavor, mi occupo di supportare le imprese nella fase di scale up. I motivi e le qualità con cui è possibile costruire un'impresa di successo sono sostanzialmente tre. La prima è costruire qualcosa di cui il mondo ha bisogno. L'errore più comune che si fa nel partire con un progetto imprenditoriale è avere un prodotto, un servizio, una tecnologia che nessuno vuole, che nessuno utilizza o che serve soltanto nella testa di chi lo ha costruito. È possibile cambiare il modello di business, è possibile cambiare la strategia, è molto difficile cambiare le persone, quindi chi vuole costruire un'impresa deve scegliere con grande accuratezza con chi lavorare e in che modo farlo. L'attitudine migliore per costruire un progetto di successo è avere alta ambizione ma basso ego. L'ambizione è come se fosse un faro che ti fa vedere la direzione, ti dà energia, ti motiva, aiuta a motivare le altre persone. Basso ego significa riuscire a imparare, riuscire a cambiare in modo costante e trovare la strada per raggiungere l'obiettivo.